La qualità della relazione si basa sulla capacità di immedesimarsi nell'altro. Da 45 anni non ha ancora capito cosa vuole fare da grande. O il medico lo sono iniziato pazzo. Se noi colleghiamo due cervelli umani, il nostro macchinario leggerà nel pensiero. Puoi venire un attimo? Voglio solo vedere se funziona una cosa. Oh, che nozio! Oh, oh, oh! Ma sei Andrea, sì. Sofì, non so come sia successo. Dovrebbe solo trasmettere i pensieri. Adesso sembra che abbia scambiato proprio tutta la mente. Oh, cazzo, c'ho la figa. Tu noti qualcosa di diverso di me? Tempo! Diamo il nostro buongiorno oggi a Sofia Valente. Mamma mia, che cosa sei. Molto elegante, complimenti. Ma giornata di merda. Ma io ho una relazione con la mia babysitter. E che mo' chiede a me? Michele, sono io Andrea. È tutto sbagliato! È tutto molto sbagliato! Ce ne rendiamo conto? Hai portato tutti i nostri conti da un avvocato divorzista. Ma che ne sai, scusa? Ho visto come un flash, un tuo ricordo. Io non ci voglio stare con una che appena può mi girare le spalle. Ma che ti ho preso? Siete l'unica coppia di gente che consca. L'unica! Non vedete più l'immagine bella che avevate dell'altro? Mi manca. Mi manca come eravamo. Ma che caso? Voglio rimanere donna.